ciao a tutti ragazzi oggi vediamo una tecnica studiata per abolire l'ansia nelle nostre menti e stimolare la concentrazione cerco di assumere la posizione più comoda che preferisco una posizione che sia comoda e distensiva anche se purtroppo a causa di molti impegni solo qualche minuto di tempo chiudo gli occhi e li tengo chiusi per un certo periodo finché riesco a ottenere una buona distensione dei muscoli dei tendini e dei nervi inizia a rilassarmi mi rilasso mi rilasso e mi distendo sempre più e sempre meglio in questo momento che è solo per me al di fuori di tutto ciò che mi stressa che mi stressa ogni giorno mi rilasso mi rilasso mi rilasso sempre più e sempre meglio cercando di non pensare a nulla oppure a qualche momento felice di questi ultimi mesi mi metto nella posizione mentale di andare incontro al sole il sole luminoso mi carica di nuove energie energie del corpo ed energie della mente in una bella giornata limpida serena con una temperatura gradevole qualche nube bianca nel cielo azzurro azzurro carico l'azzurro del cielo nella magia di prati verdi e l'ossureggianti che si perdono all'orizzonte privo di contorni flottuante di nuvole e vapore onde disparse di sensazioni piacevoli con il vento che disegna sull'erba fantastiche partiture una dolce brezza mi accarezza il viso e mi distende i muscoli i nervi e i tendini comincio ora a sentirmi molto meglio molto meglio di prima e assaporo questi momenti di calma di serenità di distensione di pace di tranquillità il sole mi è amico mi ridona carica energia gioia di vivere buon umore assaporo a occhi chiusi tutto ciò che la mia mente mi invia attraverso immagini rilassanti cammino lentamente in mezzo a prati verdi con le gambe leggere che si muovono sul sentiero di ghiaia fine cammino lungo le rive di un ruscello il dolce rumore dell'acqua mi rilassa e mi distende l'acqua riflette come in uno specchio gli alberi verdi e il vento soffia dolce tra le foglie cammino attraverso i raggi di luce della primavera il profumo della primavera lentamente dolcemente mi avvolge la brezza accadezza il mio viso lentamente dolcemente mi lascio andare al benessere straiato sull'erba sono da solo in questa pace all'ombra del bosco ai margini dell'erboso pendio con i rumori dolcemente dispersi dal vento collato in questa meravigliosa natura la pace la serenità di questo momento che appartiene solo a me stesso lascio che il mio cuore si culli in questa visione di serenità pace benessere mi sento trasportare dagli odori della campagna dalle sensazioni del paesaggio dalle emozioni tutte improntate a benessere fisico e psichico la gioia di vivere la nuova attività da intraprendere mentre tutto intorno a me è immerso nella calma nel benessere nella tranquillità in uno stato d'animo molto intenso e nello stesso tempo molto leggero questo genere di tecnica si avvale dell'utilizzo di visualizzazioni mentali distensive e sempre positive un allenamento di questo genere può risultare molto utile con il passare del tempo questa tecnica può essere utilizzata una o più volte al giorno e non necessariamente quando sta già subentrando dell'ansia ma ancor prima che si generi nelle nostre menti cercando quindi di prevenire